ciao ragazzi ben ritrovati sul mio canale ecco cosa succede quando non sai cambiare la batteria dell'auto e devi chiamare un tuo amico per farti cambiare la batteria dell'auto sei pronto? hai rotto i coglioni cioè te quando c'è qualcosa di buono da fare sicuramente non ci sei di mezzo tu perché tu rompi le palle sempre non è possibile anche il giorno del mio compleanno sotto la pioggia chi rimane a piedi e chi chiama per venire a sistemarti la batteria della macchina il sottoscritto perché se no mi rompi i coglioni giuro se no mi rompi i coglioni tu non sei contento un compleanno che già è di merda più di merda e così non poteva andare va bene davide tanti auguri intanto fratello che mi scrive tanti auguri e tanto in casa a fare i cazzi suoi tanti auguri che cosa sono qua a risolvere ancora i tuoi problemi un'altra volta un'altra volta a risolvere i tuoi problemi io sono stufo di te e bel compleanno di merda un'altra volta è un bel compleanno davide tu nelle situazioni peggiori salve signora tutto a posto stiamo sistemando qua come al solito è lui che crea un po di casino sì sì no ma sì ha ragione salve rivederci sono qua che prendo tutta l'acqua per colpa tua auguri e buon compleanno ma datti fuoco eh buon compleanno una merda ma datti fuoco datti sempre nei momenti migliori tu arrivi sempre e quindi cosa dici di cambiare batteria dopo? un sacco di acqua sì eh ma dopo me la lascia mettere su? no no la so togliere e basta secondo te la so togliere e basta non so fare un cazzo io non so mica come te col computer che schiaccia quattro tasti a posto eh ma va va questo adesso allora? sì sei a posto cosa vuoi ancora eh ma adesso la macchina non va è senza batteria no no aspetti 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 no se vuoi metti su questa vai lì metti su questa che funziona vai metti su quella batteria qua che sei a posto vai dai vai ah vado con questa? sì 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 a posto garantito da te? a posto ok va bene lo faccio subito grazie nooo sta male figa cosa ho fatto scusa? per forza che non ci chiude ci ho tolto la batteria la devi chiudere a mano eh cosa ne so io no 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 Grazie a tutti.